Il mondo dei motori è un labirinto incantato e fantasticavo di costruire la macchina dei miei sogni. Ascoltavo i desideri dei miei amici. Volevano diventare astronauti, avvocati, dottori. Io invece avevo un altro obiettivo. Quando sarò grande, voglio avere una moglie bella e dolce, come la mamma, una famiglia numerosa. Voglio essere felice e guidare una macchina come quella di papà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.